Parlo spesso dell'importanza di definire degli obiettivi e di in qualche modo tenere traccia per vedere e monitorare l'andamento. Ora, per molte persone è difficilissimo definire gli obiettivi e soprattutto avere una routine così chiara e così ben organizzata da rispettare e quindi iniziano con i buoni propositi ma a un certo punto mollano tutto, mollano la gestione del tempo, mollano il percorso che avevano prestabilito per raggiungere gli obiettivi, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che noi possiamo fare per cercare di ovviare a questo problema e cercare di responsabilizzarci sempre di più è quello di andare a creare una sorta di sistema di monitoraggio interno. Nel senso che a fine giornata potresti fare un elenco di tutte le cose importanti che hai fatto e poi un elenco delle attività meno importanti che hai fatto. Questo piccolo esercizio ti permetterà di capire che esistono tantissime situazioni e ti assicuro che ce ne sono molte più di quanto pensi, per la quale gli imprenditori si trovano a lavorare tutto il giorno come di forsennati, e quindi strariempiono l'agenda, hanno un sacco di cose da fare, ma poi quando vanno a compilare le cose importanti fatte praticamente la colonna diciamo è vuota e se guardano le attività fatte è vuota uguale, perché hanno dedicato così tanto tempo a cose di così basso valore che quando devono andare a diciamo rendicontare, quindi a capire, a pensare ok ma oggi su cosa ho lavorato, non riescono nemmeno a rendersene conto perché erano attività talmente a basso valore che gli ha semplicemente impegnato del tempo. Questo piccolo esercizio che si è fatto quotidianamente ci porta diciamo in due direzioni, o meglio ci porta a due risultati. Il primo è renderci conto che non stiamo facendo le cose importanti che ci aiutano a raggiungere l'obiettivo che abbiamo in testa e semplicemente fare questo ci obbliga a definire poi un obiettivo perché tu dici ok ma cosa ho fatto di importante oggi? Eh ma cosa intendo per importante? E inizia a farti queste domande che ti porteranno le giuste risposte. L'altro punto, il secondo, è che ti renderai conto che stai buttando via le giornate su cose tendenzialmente inutili e in una prima fase cercherai di essere più consapevole di come gestirai il tempo. Quindi ok, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo, ho fatto questo. Lo fai un giorno, due giorni, tre giorni, dopo un mese, ma anche meno in realtà. Inizia a vedere quello che hai fatto durante i giorni passati e dici cavolo ma ho perso veramente un sacco di tempo, ho dedicato dell'energia, del tempo dell'attenzione su progetti, su clienti, su cose che potevo tranquillamente evitare di fare. E ti renderai anche conto che il tempo che dedichi a queste attività, a questi progetti, a queste cose diciamo secondarie, è molto ma molto più grande rispetto a quello che al momento pensi. Magari tu dici sì per questo progetto ci dedico due ore a settimana, poi quando vai ad analizzare le cose per bene scoprirai che magari ce ne dedichi due ore al giorno, un'ora al giorno o comunque molto di più rispetto a quello che ti aspettavi. E questo dopo un po' è come un camion che ti arriva dritto in faccia perché ti fa rendere conto di quello che sta succedendo, perlomeno in ambito lavorativo, se lo fai in ambito lavorativo, nella tua vita. E ti permetterà di iniziare a cambiare perché quando vedi ciò che fai ti renderai conto che non ti piace e inizierai a fare altro e questo altro è ciò che ti porterà nella direzione in cui vuoi andare davvero. Quindi prova a fare questo esercizio e poi mi ringrazierai. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, per farlo non utilizzare software o chissà che. Prendi un'agenda, carta e penna e inizia a scriverlo lì tutte le sere in modo che lo puoi sfogliare, guardi giorni prima, guardi giorni dopo. Inizierai a renderti conto di come stai sprecando il tuo tempo. Nel momento che realizzerai ciò, come ti dicevo, la tua vita cambierà in meglio drasticamente. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!